Presentato ieri il libro Chiesa Madonna della Grazia, Storia e Architettura di un nuovo Tempio Sacro in Andria di Riccardo Ruotolo, Marco Stigliano e Giuseppe Ruotolo. Durante la presentazione l'intervento di Monsignor Luigi Renna, Vescovo di Cerignola e Ascoli Satriano. Le interviste. Don Ettore, all'interno delle celebrazioni di questo primo anno della Chiesa Madonna della Grazia viene presentato un libro. Dal titolo Chiesa Madonna della Grazia, appunto, Storia e Architettura di un nuovo Tempio Sacro in Andria. E allora ti chiedo, perché l'esigenza di dare vita a questo nuovo Tempio ad Andria? L'esigenza è di ordine pastorale. Qui in questo territorio parocchiale siamo presenti da più di vent'anni, però è da un anno che abbiamo la Chiesa nuova. Che cosa significa avere una nuova comunità? Che cosa comporta questo? Più che comunità, casa. Avere una nuova casa. Comporta una riorganizzazione più adeguata alle esigenze pastorali, dall'accoglienza ai servizi, alla catechesi, alla liturgia, il servizio della carità, l'animazione del tempo libero dei ragazzi. Grazie a queste strutture adesso è un po' più organizzata la realtà pastorale. Che altro è cambiato in quest'anno? Ma è cambiato il fatto che abbiamo queste agevolazioni grazie a questa nuova struttura. Ingegnere, che cosa racconta in questo libro? Questo libro è un libro a più voci, non è che racconto io soltanto. Praticamente sono evidenziati quelli che sono stati i concetti base su cui si è improntata tutta la progettazione della Chiesa. Concetti base che rinvengono dall'architettura cristiana di sempre, tipo la basilica, tipo il chiostro, la cupola. Però il tutto interpretato in chiave moderna, come architettura moderna. Quindi è la tradizione rivisitata con la modernità. E poi si raccontano tutti i simboli che sono presenti in questa, anche se guardandola si vede un edificio molto molto semplice, molto pulito. Eccellenza, la Chiesa Madonna della Grazia qui ad Andrea compie un anno. Una chiesa, comunità, che è anche casa, ci ha detto Don Ettore. È anche casa ed è una casa molto bella, che può essere ben definita una delle chiese più belle fatte negli ultimi anni in Puglia. Richiama una tradizione e il senso del libro che andiamo a presentare questa sera, soprattutto nel suo studio centrale, quello dell'ingegner Ruotolo, ci dice che c'è un connubio fra tradizione e innovazione. La tradizione che è lettura anzitutto della scrittura, con la composizione di questa forma cubica che richiama la Gerusalemme celesta, l'uso dei materiali che richiama le nostre cattedrali pugliesi, e l'artece, le navate laterali, il campanile. Tradizione e innovazione, perché la casa di Dio possa essere ancora casa tra gli uomini in modo significativo. E mi piace accostare questo campanile agli altri tre grandi campanili di Andrea. Non sono visibili in un colpo d'occhio, ma sono in continuità con una bella tradizione.